ragazzi iscrizione al canale gratis e campanellina per voi è un gesto insignificante iscrizione al canale non per tutti per molti per me è importante vorrei arrivare a 10.000 iscritti a breve ma giusto c'è la felpa ufficiale della curva nord si c'è la felpa ufficiale della curva nord è ufficiale non è contraffatta è originale l'ho comprata e quindi cosa vorresti dire che ho la felpa ufficiale tra l'altro mi hanno anche aiutato mi hanno anche aiutato ad averla perché questa era appena uscita guarda come bella guarda aspettava guarda guarda me la fuma e quindi un detrattore ma giuse una curva con la felpa ufficiale poi addirittura hanno ripreso un video di 6 di 6 mesi fa vai da quelli della curva che hanno tutti il mio numero soprattutto due che gestiscono la curva e gli dici che giuse alla felpa della curva nord su youtube vai a dirglielo anzi visto ci sono vi invito a non comprare la roba contraffatta ma originale qualcuno di voi poi mi diceva parliamo dell'anno scorso perché sono contro la roba contraffatta perché perché poi alla fine diventi un concorrente dell'inter diventi un competitor dell'inter se vai a comprare la roba contraffatta e non compri la roba originale no quindi lo stesso anche c'è anche la roba della curva nord non originale sarà meglio comprare l'originale ma perché ti dico questo perché sennò diventi concorrente i tifosi diventi concorrente della società non va comprata la roba contraffatta a parte il reato va presa la roba originale costa tanto fanno sempre le promozioni trovi sempre le scontistiche trovi sempre anche nell'interstore ci sono sempre delle offerte vantaggiose anche per i bambini per i grandi per per gli anziani non c'è sempre modo di avere qualcosa di nero azzurro in casa originale magari non sarà l'ultimo modello ma non la comprate la roba contraffatta ragazzi ma di cosa ragioniamo io per oggi non sono preoccupato per il campo anche perché parliamoci sinceramente ragazzi cioè qui siamo anche avvantaggiati da un lato è fatto che gli mancano i bala smolling spinazzola e pellegrini e renato sanchez mi mancano cinque titolari alla roma ma attenzione perché le squadre di morigno e tra l'altro ragazzi permettetemi una cosa io morigno gli voglio bene però ora mi ha rotto i coglioni anche lui con tutto il rispetto senza offesa per nessuno ha rotto i coglioni anche morigno perché sembra una finale di champions league non sto parlando dei tifosi sto parlando al di fuori dei tifosi sia della roma e dell'inter le televisioni e i giornali sembra che sia che che si stia per affrontare una finale di champions league è una normalissima partita di campionato ed attenzione attenzione sta dall'esterno e io vi dico di cosa sono preoccupato dall'esterno stanno cercando in tutti i modi di far passare per razzista attenzione a quello che ti dico di far passare per razzista una rabbia una semplice rabbia contro un giocatore che ha tradito l'inter è una semplice rabbia perché soprattutto all'internazionale football club di milano puoi dire tutto ma che ci sia gente razzista perché noi nella storia dell'inter abbiamo avuto giocatori di tutti i colori di tutte le nazioni da tutte le parti del mondo e non è mai successo nulla all'inter quindi guardate di non vedete di non romperci coglioni ma attenzione perché io non ti voglio dire che loro cercheranno di vincere la tavolino attenzione ma occhio però occhio perché questa sarà una partita piena zeppa di provocazioni ci sarà molto vietnam in campo per vietnam ovviamente intendo falli oltre le provocazioni e quindi non sarà una partita semplice soprattutto se non si indirizza in una certa maniera nei primi 15 20 minuti stai attento a quello che ti dico per quanto riguarda giudacu giudacu non ha nemmeno la spalla sua perfetta che non è che che lo ha innescato tante volte fino a questo punto della stagione che è di bala perché a noi l'anno scorso di bala ci fece girare i coglioni a milano ragazzi parliamoci chiaro ma giudacu non avrà la sua spalla preferita perché un conto è giocare per lui con una spalla come di bala un conto è giocare senza perché perché essendo scarso tecnicamente poi ci può fare anche modi quello un altro discorso lucano non avrà un punto d'appoggio fondamentale per lui quest'anno che è di bala il fatto è poi manchino tanti titolari da un lato per noi è un vantaggio dall'altro con un allenatore come morigno è uno svantaggio perché perché lui in questi casi riesce a compattare e a dimettere ancora più grinta nella squadra i giocatori quando i giocatori la scuola di morigno pur non essendosi evoluto a livello tattico però è comunque sempre un ottimo motivatore è ancora un ottimo gestore lui riesce a tirar fuori ancora di più dai giocatori quando ci sono delle assenze importanti quindi da noi per noi da un lato lei un vantaggio e da un lato dall'altro lato non lo è quindi occhio le provocazioni occhio occhio anche tifosi bisogna stare attenti perché questi non aspettano altro io te lo dedico da una settimana quindi ora la rabbia che abbiamo tutti contro questo personaggio ci vorrei mi sono messo la feppa anche perché ci vorrei essere anch'io allo stadio purtroppo non ci posso essere forse questa volta sarei andato in curva anch'io pensate con due fischietti ci sarei andato non con uno però non ci posso essere ma la rabbia che comunque la tifoseria sta trasmettendo anche ai giocatori dell'inter va scaricata tutta in campo ma va scaricata in maniera intelligente perché io parlo i giocatori dell'inter con dei tifosi del genere con con un tifo del genere parlo di tutti i tifosi interisti che vanno allo stadio io purtroppo ci vado una volta due l'anno se va bene con dei tifosi così parlo i giocatori dell'inter ma come fate a non vincere un contrasto a non lasciare la vita sul campo cioè voi dovete veramente rastrellarlo il campo con dei tifosi così soprattutto per il tifo ci sarà oggi ma ma per il tifo e poi fondamentalmente c'è sempre a San Siro perché ti viene la pelle d'ora quando guardi le partite in televisione il tifo io lo sento in televisione a volte mi tocca abbassare perché lo sentono dai piano di sopra quindi anche i giocatori dell'inter anche per il pubblico per i tifosi dell'inter oggi a maggior ragione la roma va asfaltata ciao inter